bella ragazzi e benvenuti che cazzo è successo e oggi siamo su team photos vi voglio solo dire che questo gioco non ci gioco da 2019 ciò significa che potrei essere più scarso del solito come potete ben vedere io col cerchino ci ho giocato di più perché possiamo dire che è uno di quelli che so usare meglio solo che il grosso è anche un altro che so usare molto bene ma quello che so usare molto meno è la spia però con quello grosso sono stato il migliore perché come potete vedere che ho 64 punti ho scelto la modalità del carrello perché è una di quelle modalità che mi piace fare perché mi diverte io direi che come prima squadra possiamo provare però a mettere il paio perché comunque il paio è diciamo anche un'altra classe che ho usato molto solo che non è che sia tanto bravo ho fatto una chi no non credo sapete quale problema è che il paio visto che è letto cioè non è che sia un problema è che visto se incontro tipo uno scout mi fa fuori non hanno secondo perché se si sa usare molto bene lo scout e ha pure una mira della madonna cioè capite che sono leggermente fregato e questa modalità l'importante non è fare le kill l'importante l'importante è non morire l'importante fare i vari carrello alla fine solo che adesso io mi metto un'altra squadra perché mi sto un po' rompendo le palle la metto la squadra che ho usato di più va bene cioè perché dovete sapere che io il cecchino lo so usare abbastanza bene e in questo video farò schifo l'unica cosa però che non sono tanto bravo a fare con il cecchino è ucciderli da vicino cioè non per dire che non so usare quest'arma ma è per dire che a me viene distinto usare il cecchino e quindi di conseguenza o credo di averlo beccato no non credo dai 50 li ho fatto comunque tanto stiamo vincendo dai 150 e no adesso siamo noi red e ci faremo più schifo al solito avrò tagliato un sacco di volte però voi non sapete quante volte ho preso le persone e non sono mai morte sì vaffanculo io adesso provo con il soldato perché mi sto rompendo le palle forse avrò scelto un lanciargiscasso non lo so me lo dovete dire voi perché è quello che userò in sta partita comunque il soldato visto che si può spammare e fai anche un po' di danno è anche abbastanza semplice usarlo se solo avesse un po' di mira dai che quel soldato me lo faccio io belle zero uccisioni cazzo mi sa che con lo scout non andrà molto meglio poi se riusciremo a vincere stavolta perché non ve l'ho fatto vedere la scorsa partita l'abbiamo persa di brutto e stasera quindi sì stasera se oggi quindi riusciamo a insomma vincere sarò molto più contento però sì vai ma con lo scout oggi sto sto migliorando sì è solo culo è solo culo comunque raga io ne mangio le parti delle morte che faccio in sto gioco e perché i miei fucili si scaricano subito cioè ho preso di fuggire con quattro colpi scegliamo grosso raga dobbiamo riuscire a fare una kill cavolo ma soprattutto ragazzi dobbiamo vincere perché guardate quanto sta il carrello da noi il problema è che se i miei amici non vanno a controllare il carrello non si può fare perché c'è morite peggio di merda che dovete raga comunque c'è cosa è successo e abbiamo perso però facciamo questo ultimo round perché sennò no loro sono già forti dai ma non è possibile comunque vorrei sapere che oddio tutto 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 ma porca madonna allora vediamo io con lo scout purtroppo non c'è niente da fare solo una frana ma pure con gli altri non è che sia tanto bravo pure con gli altri ma con lo scout è proprio negato la cosa brutta che purtroppo è un purtroppo io giocherai pure a sto gioco ma se non riesco neanche ad uccidere uno fermo come faccio dai scout e muori morite tutti straggio sono diventato invincibile ora mi ammazzo oh no l'ho ammazzato e poi anche a te scout e da no bello che sto qui allargando muori strunze oh si raga lo scout mi sta troppo sulle palle adesso lo vado ad ammazziare basta muori leggeo si cosa 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 aiuto grazie ho fatto un assist ragazzi c'è un soldato qua da queste parti che non vuole proprio avere buone intenzioni ma dove cazzo è andato mi sono distratto e mi sono sentivo mi sono distratto e sia ingegneri allora ragazzi brutte notizie abbiamo un soldato che non ha anche scout che non ha buone intenzioni cioè significa e cosa succede qua e che succede che succede che si ragazzi dobbiamo proteggere qua è perché sennò perdiamo di brutto ecco e poi va a finire male e piangiamo tutti spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao